Forti disagi per il violento nubifragio che si è abbattuto nel tardo pomeriggio di ieri a Montevarchi. La pioggia intensa ha creato problemi non solo lungo le strade, ma anche nei parcheggi interrati. Le immagini di Valtaro 24 si riferiscono al centro commerciale in zona nord. I parcheggi sotterranei della Coppe di via dell'Oleandro di Obi sono stati infatti allagati, anche se per fortuna non hanno fatto registrare danni alle vetture in sosta, almeno in base ad una prima ricostruzione. La notevole quantità d'acqua ha creato però non pochi disagi e per fortuna la pioggia è durata solo qualche decina di minuti, altrimenti a causa della violenza della stessa le conseguenze sarebbero state ben diverse. Altre criticità si sono registrate in via della Sugarella, nella zona della stazione ferroviaria, dove l'acqua è ristagnata creando grossi problemi alla circolazione. Le maggiori problematiche sono arrivate dal sistema fognario che è andato in tilt.